Hi guys, quest'oggi andremo a vedere una canna in acciaio inox appena rientrata su di una revisione cui il cliente direi anche giustamente lamentava un allargamento della rosata particolarmente significativo premessa dopo 4 caricatori di pallini biodegradabili il cliente ci ha riferito 3-4 caricatori adesso la prendiamo, andiamo a lappare e vediamo cosa esce fuori eccoci qua, utilizzeremo un lappatore a secco da 10.000 tanto la canna era già stata lappata quindi si tratta solo di andare a rimuovere tutti i residui dei pallini fermo il lappatore andiamo subito a vedere i residui usciti dalla nostra finestra ripartiamo questo è il risultato questo è il risultato condizioni devastanti per fortuna è una canna in acciaio inox quindi noi adesso andremo qui a infilare il pezzo di carta e tutti i residui guardate guardate bene tutti i residui fortunatamente saranno rimossi e la canna tornerà come nuova ma se in questo caso avevamo una canna in ottone in alluminio era praticamente da buttare via adesso noi panno e un'altra piccola lappatina la canna torna in condizioni ottimali considerazioni finali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti